Musica Le persone sono state recuperate dai volontari che mi hanno portate poi al singolo secondo piano delle infezioni Gli ho fatti salire su, gli ho fatti uscire dalla finestra Ci sono altre segnalazioni di persone che hanno bisogno di essere recuperate Il livello dell'acqua arrivava esattamente qui Musica Musica